Per niente sicura la cosa, però vabbè, ok, proseguiamo, no, non laboratorio, rifugio di Vector, sperando che non dobbiamo fare un'altra fuga a volante. Eh beh, certo. Eh, esatto. Eh come no. Paccatai. Gesù. Ah, che paglia, no, segui, proteggi la nave. Vabbè, ancora sto zoom, ti giuro sta zoomata continua, mi fa un male agli occhi, tra l'altro, vabbè vaffanculo, io ero passato benissimo lì in mezzo. Guardalo. Ma che fastidio che mi dà. Se ti piacerebbe. Aspetta. Eh, la nave degli scagnozzi, vai via. Eh, ma va. Mi ricorda, stavo dicendo, la zona dove Flash corre via nel film degli incredibili. Ecco, fatto. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Perfetto. Dai che c'è lo... come si chiama? Cos'è che suonava? Dicevo, dai che c'è il checkpoint. Perfetto. Dai che arriva altra gente, adesso. Dove siete? Aspetta, vai. Preso. Allora. Ecco, fatto. Uh, il vulcano. Allora, fai il giro. Preso. Dove sono? Dove sono? Ok, aspetta. Non mi venire così dietro che poi è un casino. Dai. Ecco fatto. Segui, proteggi gli scagnozzi. Dov'è? Dai, su, 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 andiamocene. Ma... Un altro po' di vita ce l'abbiamo, stavo dicendo. Ora che ho scoperto come si usano i missili a ricerca. Dio mio. Vai, 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 vai. Ecco qua, perfetto. A posto. Prima ancora che potessero apparire. Tanto adesso appare qualcuno qua ora. Tre, due, uno. Vai, 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 vai. Preso. Perfetto. Prendine un po' di più. Perfetto. Ma va, va. Non ho capito questo a cosa serve. Ecco qua. Abbiamo finito il livello? Ti prego, dimmi che non devo fare nient'altro. No, col cazzo. Effettivamente potevo aspettarmelo, però. Ok, questo sì, è artistico. Te lo concedo. Mi fa molto ridere questa cosa qua, comunque. Era un'arma, ma non ho capito di che tipo... Vabbè. Non ho capito di che tipo. E via, si prosegue. Allora... Ma non è lo stesso livello che abbiamo fatto altra volta? Cioè, sì, però mi sa che è un pelo più... Più articolato, diciamo. Dai. Ecco, fatto. Ok, allora. Fammi solo vedere... No, eh. Le telecamere invalicabili, eh. Dai. È plas... Mmm, vabbè, dai. Lasciamo perdere. Ok, allora, aspetta. Ce la potevo fare benissimo, comunque. Sappilo. Ecco qua, poi... No. No. Dove mi ha visto? Ah, perché si è riattivata l'altra. Cavolo. Ho capito. È più stupido di quanto non doveva essere la cosa. Ecco qua. Tac. Poi ora... Ne mettiamo di nuovo un altro... Qua. Ecco fatto. Spegne la videocamera. E noi possiamo passare... Non era difficile. Era solo un attimo da capire che dovevo usare lui invece che io. Ok, allora, aspetta. No, ok, allora. Abbiamo otto minion, eh. Beh, in teoria non dovrebbe essere difficile. Allora, aspetta. In teoria è una cavolata, però... Giusto per andare sul sicuro. No, ma scusami. Devo fargli fare tutto il percorso. Ecco qua. In teoria è arrivato. No, col cavolo. Ecco qua, ora è arrivato. Bravo. Ok, l'altro livello sott'acqua. Ok, l'altro livello sott'acqua. Credo sia la stessa soluzione dell'altra volta, solo che... A questo giro c'è una ventola. Allora, vediamo se la mia idea è giusta. Non credo, eh, però... Sai che non lo so? Perché in teoria non abbiamo fermato il coso d'acqua. Di vento. Proviamoci, ma... No, ha funzionato, invece. Ha funzionato e come? Perfetto. Vediamo se riesco a fare... La gabola. Perfetto. Ed ecco qua il sistema di guida. A Vector non dispiacerà se lo prendiamo in prestito. Vada, vada. Fine livello. Scopriamolo subito. Tra esattamente poco. E... C'è un minion dentro la porta. Lo sapevo. E' bellissimo. Ecco qua. Fatto. Siamo al 46%. Non sono un critico d'arte, ma so cosa mi piace. Aha, certo, come no. Bene, bene. Guarda che è tornato per un'altra razione. Ah... Ok, aspetta. Ah, beh, è una cavolata in realtà, eh. E' un livello molto più semplice di quanto non sembri in realtà. Questo non l'avevo calcolato. Sei tu che mi controlli? Questa cosa qui non l'avevo calcolata, ok. Pensavo ci passasse, sinceramente. Ah, se sparo due volte posso andare più veloce. Hai superato le mie difese l'ultima volta. Ma stavolta... No, 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 no. Sì, 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 sì. Certo, certo, certo. Cucicicu. Bello lui, pagliaccio. Pagliaccio con i capelli di scemo. Bravo. Se spari due volte ai muri puoi andare più veloce. Ottimo da sapere. Allora. Ecco qua. Oh, di nuovo lui, no. Ok. Di nuovo il coso d'acqua. Maledizione. Ah, perfetto. Si ferma da solo. Allora, aspetta. Vai. Fermo. Ecco qua. Fermo lì. Ah, l'acqua. Vai. Sbrigati. Ok, ok, ok. No, l'acqua, l'acqua, l'acqua. L'acqua. Passa, passa, passa. Ecco qua, vai. Direi di sì. Ok, è andato. Che culo. Stai zitto. Stai zitto, idiota. Preso. No. Non ho fatto in tempo a congelarla. Allora, subito. Congeliamo le due pedane. Uccidiamo il robottino. Congeliamo la seconda pedana. Congeliamo la terza pedana. Uccidiamo altro robottino. Facciamo passare l'acqua. Perfetto. Ok, no. Ragazzi, faccio l'acqua. Ok. Ok, no. Dobbiamo sperare esatto che ci arriviamo. Maledizione. Eccoci qua di nuovo. Perfetto. Fermo lì. Oh, calmo. No, non ci arriva. Dobbiamo sperare un attimo che... Perfetto. Perfetto. Calmo. Lì mi sa che c'è un quadro. Eh sì, aspetto. Non ci arriva, non ci arriva. Dobbiamo aspettare un attimo che questo... Perfetto. Ok, tutto questo... Per il collezionabile. Dai che l'abbiamo superato. E invece l'ho appena fatto. Con molta difficoltà aggiungo anche. Allora, aspetta. 3, 2, 1... Perfetto. Andata. Allora, aspetta perché non lo prende il muro. Perché non lo prende? Niente, qua vabbè. Colpa tra virgolette mia però vabbè. Perfetto. È così ingiusto. Rimani fermo in piedi e sei già battuto. Dai zitto. Perfetto. Andata. Ancora. Quanto dura sto livello? Quanto stanno durando queste parti? Ecco qua, dai. Perfetto. No, cavolo. Era perfetto. Ho sbagliato a sparare di nuovo. Ok, non è difficile per fortuna. Non ha questo giro perlomeno. Anche se devo dire... Un pelo stretto i passaggi, eh. Tipo questo è... No! Ho schiacciato... Quello è molto stretto. Ma un bambino, sincero, come lo faceva sta parte? Un bambino davvero falliva cinque volte di seguito? Schiacciava il pulsante vai avanti senza farlo sto livello. Ma per davvero? Dai, che cosa mi ha colpito? Neanche mi aveva sfiorato. Ok, rieccoci qua. Allora, pianino adesso. Appena sorpassiamo questo, subito. Troppo, troppo, troppo. Vai. Troppo, vai. Perfetto. Perfetto. Ok. Alla fine. Ma un bambino davvero? Cioè, va bene il picco di difficoltà. E per carità, io sono contro i giochi molto semplici per bambini. Ma certe meccaniche, anche per un bambino, credimi che non è che... Che gli semplifichi per nulla la vita. La spara ragnatele. Certo, capo. La spara ragnatele. Grazie per la visione!